... del pubblico nel porto di Cagliari e in questo evento, oltre al punto di gestire, scusate, la formazione è là, qui prendiamo. Allora, mi consentisi di dire a due parole, infatti vedi, in un momento, da l'andrà a l'una, parlando di un'altra esercita della Sardegna, che io ho il privilegio di rappresentare quando mi sono andato a fare una sede, volevo dire soltanto due parole, prima di aver già consegnato il guidone che si trova nella banca. Sardegna 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.